Ma perché l'ha definito molto ambizioso la sua esposizione? Chi? Sassi il blomma? No, 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 ma no, ha parlato ambiziosi, sono i programmi. Ma no, conferenza stampa, l'ha detto a destra, che l'esito programma è stato molto ambizioso. Va bene, grazie. No, no, va bene, è ambizioso perché i problemi sono importanti, ma insomma, l'importante è che ci sia, il punto è che c'è un ampio consenso politico per fare questo tipo di mantenimento, di combinare il consolidamento, il rafforzamento della finanza pubblica con programmi di riforma e interventi, diciamo, sulle questioni urgenti, senza sconvolgere, diciamo, gli impegni assunti. Perfetto, grazie.